naturale, quindi pericolo è scampato. Adesso torniamo invece in Palazzo Vecchio dove c'è stato un convegno particolarmente importante sui temi legati allo sport organizzato da Estra. Raccontare le buone notizie, quando i giornalisti danno voce allo sport come una vera e propria agenzia educativa. Questo è il filo conduttore di un convegno tenutosi in Palazzo Vecchio e organizzato da Estra insieme a Lussi Toscana, l'associazione dei giornalisti sportivi. Progetti, idee e comunicazione per uno sport davvero sociale. In questa occasione è stato presentato il premio di Estra rivolto ai cronisti che raccontano appunto le buone notizie. Mettiamo in evidenza quei giornalisti che non scopono soltanto il fatto agonistico ma che raccontano grandi storie di coraggio, di gioia, di sacrificio come la scuola di rugby che viene messa in piedi a Scampia per il riscatto di quel quartiere o il maratoneta che malato di cancro insiste fino a vincere la maratona. Cerchiamo di dare una mano a piccoli grandi giornalisti che raccontano grandi storie che mettono in evidenza quei valori a cui lo sport dovrebbe ispirarsi. In questo clima rovente dove sono tornate in queste ultime settimane prepotentemente alla ribalta le fake news, cioè le notizie false, questa iniziativa di Estra è quanto mai rilevante. Siamo una grande multitudine italiana che vuole continuare a rappresentare una forte responsabilità sociale di impresa e sosteniamo lo sport in tutte le sue discipline dal calcio all'occhi alla scherma alla pallavolo. Al convegno hanno preso parte fra gli altri anche il presidente della Fiorentina Mario Cognini ed il vice presidente della FIGC Renzo Ulivieri. Gli onori di casa dell'assessore allo sport di Palazzo Vecchio Andrea Vannucci. Non è un caso che le belle storie, le buone notizie come dice il claim del concorso stiano da ricercare in un mondo che è quello dello sport che è una fucina di storia, una fucina di percorsi individuali e collettivi che si sviluppano grazie attraverso lo sport e che molto spesso sono storie belle, sono buone notizie. Per il premio Estra per lo sport tutti i giornalisti dovranno presentare gli elaborati, pubblicati, trasmessi o diffusi entro il 15 di maggio del 2018. Questa è l'iniziativa di Estra alla quale come dicevamo nel servizio ha partecipato anche il vice presidente della FIGC Renzo.